Buongiorno a tutti, buon sabato 30 di settembre, cominciamo così. E speriamo che appunto è il campeon, il leone in gabbia, oggi sfrutti la sua occasione, la sua grande occasione. Pensate che torna a titolare l'ultima volta fu a Liverpool e un'altra delle occasioni buttate lì. Inzaghi gli diede grandissima fiducia nel ritorno degli ottavi con i Reds per provare con la rimonta inimmaginabile e che l'Inter quasi poi sfiorò con quel gol pazzesco di Lautaro, ma arrivò la inconcepibile espulsione di Sanchez per un'entrata a metà campo inutile, lui già ammonito e venne espulso vanificando una grandissima prestazione di un Inter che però poi si portò comunque a casa una vittoria ad Anfield Road che fa curriculum europeo, è un'ulteriore dimostrazione di quanto di buono si sia fatto in questi ultimi anni di come l'Inter continui la sua crescita. Tutte queste partite ravvicinate ti portano, impongono alla fine di fare delle scelte anche coraggiose. Stasera sarà molto difficile in quel di Salerno, intanto qua siamo blu e bianco come sottolinea il teccaldo più famoso di YouTube, ci sarà già qualcuno che era pronto a dire che era nero blu, assolutamente, però bisogna assolutamente ripartire perché dopo la sconfitta con il Sassuolo bisogna subito cancellare qualsiasi dubbio, qualsiasi punto di domanda, bisogna rispondere con una prestazione convincente, soprattutto con i tre punti su un campo che sarà difficile, molto caldo solo tre punti in questo avvio di stagione per la Salernitana che poi ha perso l'ultimo turno contro Lempoli, voci su un possibile esonero anche di Paolo Sousa, il caso di A che ha segnato l'estate per i campani e stasera però attenzione che potrebbe tornare titolare, è un giocatore forte, 16 gol nell'ultima stagione col mal di pancia per il suo trasferimento saltato in Premier League poi era scomparso per qualche giorno in Francia, almeno così avevamo letto, non rispondeva poi è tornato beccato dai tifosi, dal pubblico per non aver rispettato la maglia della Salernitana potrebbe essere un ulteriore ostacolo stasera con la voglia dell'attaccante africano di mettersi in mossa di chiudere le polemiche, già l'anno scorso ci mise in difficoltà, aveva preso un palo se non ricordo male non ci sarà Candreva che all'Inter segna spesso come tanti ex o come Berardi come abbiamo visto per un problema muscolare, dispiace sempre perché comunque anche Antonio è stato uno di quelli che ha sempre dato tutto per la maglia nerazzurra, un Inter che farà un robusto turnover come abbiamo visto pre e post Champions, purtroppo però è arrivata un'altra notizia non buona perché si è fermato anche Frattesi che continua a avere questo fastidio al flessore che gli provoca dei problemi, niente di grave ma il discorso è che bisogna evitare un altro infortunio perché se no veramente poi si rischia che la coperta inizi a diventare molto corta mentre facciamo i complimenti alla Primavera che ha vinto 4-0 con il Torino che l'Inter poi affronterà dopo la sosta di ottobre flessori della coscia destra per Frattesi che è quel problema che si porta dietro dalla Nazionale un fastidio che ha continuato ad aumentare un po' sempre di più alla fine si è deciso di tenerlo fermo, il problema è che salterà anche la gara col Benfica di martedì e stasera avrebbe giocato titolare proprio per far rifiatare un Mkhitaryan sempre in campo e che ha fatto vedere insomma di essere un po' in difficoltà dal punto di vista fisico nelle ultime due partite è un altro problema in più e adesso veramente anche l'Inter deve dimostrare che è la rosa tanto prima criticata in estate per non essere all'altezza di quella dell'anno scorso poi super elogiata fino a tre giorni fa prima della sconfitta con Sassuola adesso bisogna dimostrare anche di esserci e chi ha giocato meno deve prendersi la scena e a partire da Sanchez dimostrare di essere da Inter e che può fare la differenza nell'Inter quindi prima di ogni cosa però non sia mai che mi dimentichi andiamo qua che casino è successo di occhiale scaramantico figurine del nipotino che non mancano mai qua con noi qui ne manca però una figurine del nipotino ma anche allo stemmone del passato che non ci deve deve essere sempre presente e poi ci mettiamo dalla collezione bellissima che ci ha mandato il nostro amico Fabio una una bellissima riproduzione della grande Inter di Angelo Moratti ecco stasera a Salerno bisogna dimostrare di essere una grande Inter nonostante la stanchezza nonostante l'ultima sconfitta con il Sassuolo quella quel rilassamento che ha preso i nerazzurri nella nella ripresa nel secondo tempo pensando probabilmente di risparmiare energie per le altre partite difficili che arrivano e martedì ci si gioca tanto del girone della possibile qualificazione agli ottavi di Champions contro il Benfica che ieri sera ha battuto il Porto nella partita più importante del campionato portoghese sfruttando la superiorità numerica con un Di Maria che si è ripreso il suo ruolo veramente di stella da campione del mondo è che martedì proverà a vendicare l'eliminazione dalla passata Champions e l'Inter non può non pensare anche a questa sfida dopo il pareggio di San Sebastian deve cercare di vincere perché poi riuscendo a portarsi a casa le due sfide con Salisburgo che non sarà facile però se si riuscisse a fare un tris di vittorie vorrebbe dire ipotecare gli ottavi di finale per il terzo anno di fila mettere fuori gioco quasi il Benfica che è la testa di serie la prima fascia la squadra di prima fascia del girone però attenzione poi sempre anche agli spagnoli che abbiamo visto essere squadra che non molla mai squadra molto pericolosa bisogna adesso partita per partita cercare di vincere contro Salernitana Benfica martedì e poi Bologna prima della sosta pera anche scacciare un po' di voci di inzaghi out di tutti i critici che si sono abbeverati alla fonte del sassuolo che non vedevano l'ora di uscire come i funghi alla prima difficoltà stagionale è chiaro si vede anche dai problemi fisici che giocare ogni tre giorni partite così importanti con la tensione che portano sia a livello muscolare che a livello psicologico creano poi pressioni e difficoltà come avevamo detto e la Juve non ha di tutto questo e dopo aver diciamo non sfruttato la prima tornata europea adesso che si è ritrovata che ha dimenticato anche la scuola di Allegri la sconfitta col sassuolo può sfruttare questo grande vantaggio perché vedete quante quante energie si perdano in partite del genere avrebbe giocato a Udero e comunque ha possibilità di fare anche lui il suo debutto stagionale però dopo dopo l'errore col sassuolo si vuole dare subito la possibilità a Sommer di riprendersi di fare una gara importante e di cancellare quella papera che ha cambiato la storia della partita dell'altra sera quindi ci sarà lui in porta con il ritorno di un pavar che secondo me in tanti stanno sottovalutando a me è piaciuto molto nelle prime due partite che ha disputato per qualcun altro non doveva saltare la gara con il sassuolo però è chiaro che da non giocare mai a giocare tre da novanta e recupero in sette giorni poi veramente rischi di mettere un po' tutti ma non perché non ne abbiano la forza o qualcuno mi dice ma sono dei ragazzi dei campioni degli atleti però avendo la possibilità di alternare si cerca anche di ruotare uomini energie per essere sempre al massimo a volte si riesce a volte no col senno di poi poi ha sempre ragione chi critica se i risultati non arrivano però ricordiamo a tutti che l'Inter è sempre ha soprattutto ai pessimisti cosmici nucleari è sempre prima in classifica col miglior attacco la miglior difesa ha perso una partita ok però dimostrare che sia solo un incidente di percorso o anche comunque una lezione che consente a tutti di migliorare di imparare dai propri errori cercando di di crescere anche da questo punto di vista Sommer Pavard De Vrij ritorna anche lui e sono già due i cambi rispetto a mercoledì a Cerbi per far rifiatare dietro Bastoni che è stato uno dei più impiegati anche se poi spesso viene sostituito durante la gara a destra a destra non c'è ancora Quadrado e la lista degli indisponibili purtroppo si è allungata Quadrado ancora le prese con la tendinite Sensi che credo torni dopo la sosta o magari riuscirà a recuperare per la gara col Bologna adesso vedremo come andrà la prossima settimana Arnautovic e adesso anche Frattesi iniziano a essere tante e pesanti le assenze quindi Dunfris a destra verrà chiamato a un'altra partita importante dopo essere stato il migliore contro Sassuolo riuscendo a realizzare il suo secondo gol stagionale Barella Ciala perché Aslani deve ancora crescere e comunque in ballottaggio adesso bisogna anche poi capire dopo diciamo il risveglio muscolare di stamattina le condizioni di tutti attenzione a Klassen attenzione a Klassen che può veramente essere un giocatore importante in questo momento sia per ricoprire il ruolo che avrebbe dovuto fare frattesi da mezzala che anche in ottica di un cambio modulo essere più avanzato giocare più avanzato sotto punta e confermare insomma quei 109 gol che ha segnato nella sua carriera importante tra Ajax Werder Brema Everton e adesso Inter un giocatore che abbiamo visto qualche minuto forse anche contro Sassuolo avrebbe dovuto entrare prima però adesso impariamo a conoscerlo e vediamo la sua qualità quello che può dare a solo 30 anni ha fatto un sacco di stagioni da protagonista l'anno scorso 10 gol anche Annate con 13 14 con la maglia dell'Ajax Reti a stagione colpo last minute a zero della dirigenza adesso anche lui deve dimostrare di essere da Inter e far rifiatare un Mkhitaryan a cui Inzaghi non rinuncia mai però forse stasera viste le ultime due prestazioni un po' sbiadite dell'Armeno che non si è mai visto poi dopo la doppietta nel derby neanche incidere neanche arrivare in zona d'attacco né con l'Empoli né con il Sassuolo e anche Carlos Augusto lì sulla sinistra a far rifiattare un Di Marco che abbiamo visto anche lui molto stanco alla fine del primo tempo contro la squadra di Dionisi riposa come anche suggerivate voi Lautaro per la prima volta a secco nelle ultime tre di campionato con Milan Empoli e Sassuolo sperando che non si allunghi questo periodo attacco leggero lì il problema potrebbe essere quello di non trovare mai nessuno in aria per i cross i servizi che spesso gli esterni mettono mettono dentro anche se Turam è migliorato molto in questo fondamentale di andare a riempire l'aria come abbiamo visto ad esempio con quel suo bellissimo gol di testa contro la Fiorentina Sanchez Turam coppia inedita forse leggera un Sanchez che mi era piaciuto come era entrato facendo però il trequartista in Spagna ha fatto un po' più di fatica col Sassuolo anche perché la difesa degli Emiliani stava altissima e con grande diciamo densità lasciando pochissimo spazio per le creazioni vediamo se stasera può essere la sua la sua serata quindi Pavard De Vrij Classen Carlos Augusto Sanchez 5 cambi rispetto alla gara col Sassuolo se ci azzecchiamo nella formazione robusto turnover riposano per la prima volta Lautaro Mkhitaryan e Bastoni e come abbiamo detto prima servono delle risposte di livello da parte di tutti gli altri dimostrare anche che l'Inter può vincere senza Lautaro ci è riuscita a farlo senza i suoi gol contro il Milan e contro l'Empoli ma adesso bisogna bisogna anche farlo riuscendo a fargli tirare il fiato perché comunque il Toro aveva fatto soprattutto nel derby una grandissima gara ma anche si sacrifica sempre tantissimo ha parlato la gente Camagno ancora a confermare che ci sono in ballo rinnovi importanti e se ne è già cominciato a parlare quando era stato intercettato sotto la sede di Via della Liberazione dopo aver rifiutato non solo la ricca offerta araba perché dalle sue parole si capisce che c'erano tante offerte per Lautaro Martinez che non è più il giocatore con lo stipendio più alto della Rosa perché guadagna 6 più bonus come Ciala come quasi Bastoni Barella e dunque bisogna Turam bisogna adesso anche giustamente credo fare un discorso per allungare ulteriormente il suo contratto in scadenza 2026 e blindarlo magari mettendo una clausola stellare proprio per far cambiare strada ai possibili club interessati Lautaro adesso è all'Inter perché gli piace società e squadra che non per niente ne hanno fatto il loro capitano il loro punto di forza il loro grande riferimento per tutto il progetto quest'estate ne ha parlato tutto il mondo della possibile cessione a un'altra squadra ma la realtà che lui ha deciso di restare perché gli piace la tranquillità e considera che la sua squadra sia l'Inter è felice è capitano della squadra sta aspettando anche un bambino dobbiamo lavorare affinché sia sempre felice credo che il rinnovo sia una possibilità ne abbiamo parlato sia con l'Inter e con Lautaro il legame con l'Inter è qualcosa di importante ci siamo promessi con l'Inter di lavorare per la tranquillità dell'Inter e di Lautaro credo che sia importante per tutti avere un legame duraturo ha rifiutato tante opzioni perché vuole restare all'Inter quindi non solo la ricca offerta araba ma chiaramente dopo aver vinto un titolo di campione del mondo da subentrante però solo perché aveva quei problemi alla caviglia dopo aver trascinato l'Inter fino alla finale di Istanbul dopo aver segnato 28 reti nell'ultima stagione e essere diventato anche il capitano di questa squadra è chiaro che sia uno di quei giocatori che fanno gola a tanti ma che si vuole blindare e bloccare stasera deve tirare il fiato anche lui se no si rischia che si finisca in quei soliti lunghi periodi di 40-50 giorni senza gol che ne condizionano poi la tranquillità e la sua produzione offensiva cercare di di legarlo ancora di più per aumentarne il valore di un asset fondamentale per il futuro dell'Inter però bisogna vincere senza di lui e senza i suoi gol ulteriore difficoltà stasera partita che non si può sbagliare ci ricordiamo quella dell'anno scorso dominata ma poi buttata via nel recupero con quel traversone pazzo di Candreva che ingannò Onana e finì in rete togliendo due punti che avrebbero potuto veramente diventare sanguinosi e estromettere l'Inter dalla corsa Champions tornare subito a vincere convincere e prepararsi nel migliore dei modi a un'altra sfida fondamentale come quella di martedì in Champions contro il Benfica altra gara da non sbagliare altra gara che dopo il mezzo passo falso di Spagna anche se credo che sarà difficile per tutti andare a giocare lì nei Paesi Baschi con quel calore che c'è è un calore simile si troverà proprio alla Reiki questa sera quindi antenne dritte turnover massiccio ma tutti devono dare qualcosa in più come aveva detto a Cerbi per superare la sconfitta di mercoledì con il Sassuolo un po' di vostri messaggi ieri abbiamo avuto problemi tecnici ancora con il caricamento del video speriamo che non ce ne siano oggi andiamo a leggere un po' di vostre considerazioni allora quelle con più like le sconfitte scrive Stefano Manai fanno parte del gioco mettetevi l'animo in pace e continuiamo a sostenere la squadra Paolo Giulio Valdi qualcuno diceva testa fredda e cuore caldo questo deve essere l'atteggiamento della squadra contro la Salernitana occorre dare un po' di respiro all'autaro preservandolo per la Champions Turamme Sanchez in avanti all'inizio ci ha beccato Paolo davvero Massimo Rappone inconcepibile che i nostri tifosi vengano colti dal pessimismo più nero dopo il primo passo falso bisogna ricordarsi che siamo ancora all'inizio della stagione per cui la preparazione può aver lasciato le scorie dobbiamo aver pazienza e stare vicino alla squadra Simone troverai la quadratura per far ripartire i nostri ieri sera ho addirittura sentito un amico che diceva è stata sbagliata la preparazione sono già tutti a terra no ma la preparazione magari l'anno scorso che la squadra non giocava e qui purtroppo è venuta fuori un po' di stanchezza fisica per tutti questi impegni che ci sono stati in alcuni giocatori e poi si è pensato troppo presto e questo è l'errore che si è fatto col Sassuolo di averla portata a casa dopo il gol di Dumfries poco prima dell'intervallo Francesco il passo falso con Sassuolo ha permesso al Milan di riagganciarci al primo posto in classifica la strada è ancora lunga ma l'obiettivo è chiaro bisogna riprendere a spingere al massimo vota Mixable leggo alcuni commenti e sinceramente non vi capisco voi che state facendo una tragedia critiche su Inzaghi abbiamo perso una partita l'Inter ha giocato anche bene primo tempo secondo non è proprio ritornata in campo le partite si vincono e si perdono e questo è il bello del calcio scrive il nostro amico dalla Svezia la piccola che batte la grande la lotta in un campionato che è molto equilibrato andare avanti Giordano credo che fa riposare un tempo Lautaro sia una scelta giusta ma il problema è come stanno Barella non entra in forma i micchi non può giocare tutte le partite mancano un po' più di rotazione chiaro che mancando poi Quadrado Sensi adesso anche Frattesi si fa fatica come lo scorso anno Salerno e poi Benfica dai che siamo ripartiti alla grande lo scorso anno speriamo di far meglio a Salerno e poi vincere col Benfica come a Lisbona Pelopieru è bastata una sconfitta per cancellare un dato di fatto inconfutabile ossia il gioco in cui l'Inter in Italia è la migliore a mani basse ma poi anche i numeri miglior difesa miglior attacco ok ha perso una partita adesso facciamo in modo che rimanga un episodio e che si riesca a ripartire con forza e convenzione i conti si fanno alla fine ma è stato in B scrive ci vuole equilibrio sia nelle vittorie che nelle sconfitte e questo un po' anche il nostro mantra così come vi mettevamo in guardia da tutte le critiche positive dopo le prime cinque vittorie di campionato altrettanto vi abbiamo detto sì segnali campanelli d'allarme però anche misura nel criticare Vieri Puccio invece sostiene che avrebbe preso di più un esterno sinistro offensivo più che Klaassen vedremo intanto oggi l'olandese secondo me è una grande occasione Joseph Mega purtroppo tutti aspettavano solo e soltanto la nostra caduta ovviamente sarebbe stato meglio che ciò non fosse successo ma sono sicuro che già da stasera la squadra risponderà da grande squadra qualche cambio ci dovrà sicuramente essere magari prendendosi anche qualche rischio come quello di far riposare Lautaro e Mkhitaryan sicuramente il mister troverà l'equilibrio migliore per mettere in campo una squadra in grado di battere la Salernitana Larita ieri diceva farei riposare Lautaro ma con Turam unica punta Pavard non può essere stanco dopo due partite deve giocare sempre però anche lì bisogna alternare le energie mister sette nanetti la scompita cosa sassuolo non ci voleva abbiamo ridato fiato ai vari gufi e critici che non aspettavano altro non so se è il caso di intervenire sul mercato a gennaio o con uno svincolato o promuovere qualche giovane della primavera come Sar che sono curioso di vedere Michele invece mi dice hai detto bene tenere o prendere un attaccante in più magari giovane con fisicità sarebbe stata una scelta saggia ho detto ieri avrei tenuto a questo punto ma vedendo le difficoltà degli ultimi anni e gli infortuni frequenti soprattutto là davanti mi sarei tenuto esposito così per l'evenienza o comunque adesso lavorerei tanto su questo su questo Sarra qualcuno rimpiangere Teghi che è chiaro che poi col senno di poi siamo bravi tutti ma c'è tempo e i giudizi li daremo alla fine poi vediamo qualcuno richiama Bisseche che non sia più rivisto e nelle rotazioni adesso ha meno spazio però starà lavorando anche su di lui inzaghi Vincenzo invece dice come mai ogni anno quando andiamo bene escono queste voci di cessione della nostra squadra guarda caso oggi non se ne parla raggiunto lo scopo non se ne parla la Rita ancora sull'argomento un po' di timore riguarda questi fondi non mi piace la cultura di quei paesi e la quasi totale mancanza di diritti umani e civili è un parere quello della Rita che leggiamo riportiamo assolutamente punteremo sull'ingaggio e il tesseramento di grandi fuoriclasse riferito alle parole del giornalista che parlava di Invescorp Luca De Feo scrive e risponde dicendo spero vivamente che si possa andare avanti con Suning vogliamo una società seria e competente con tutto rispetto per eventuali nuovi acquirenti un po' di rassegna stampa la iniziamo proprio con tutto sport che oggi non parla di società in copertina però già ricorda l'infortunio di Frattesi e un Inter che deve rinunciare a un altro elemento importante la Juve Suturam Junior è quello è un colpo che anche l'Inter dovrebbe cercare di fare per il futuro Inter ora è allarme out pure Frattesi novità Klassen andiamo alla gazzetta dello sport in copertina Inter e Milan che si giocano la testa della classifica in palio la testa con Turam e Giroud e speriamo che questa prima pagina porti bene come prima del derby quando fecero quel confronto della nazionale francese gli anticipi che valgono il primo posto il Milan con la Lazio l'Inter a Salerno il Napoli contro il Lecce occhio al Napoli che può ripartire testa umiltà e ricambi Simone scuote la squadra e chiede subito i tre punti ieri un faccia a faccia un confronto abbastanza partecipato per superare subito la sconfitta con Sassuolo formazione confermata quella che avevamo detto il Toro vede la panchina con Turam c'è Sanchez l'Argentino è stanco prima volta fuori Corriere dello Sport in prima pagina vediamo se si apre un'intervista esclusiva a Luiz Alberto poi l'Inter attesa a una partita importante senza frattesi partita che seguiremo